Abbiamo deciso di partire aiutando gli ultimi. Questa è una scelta di campo e la rivendico. I provvedimenti che abbiamo fatto hanno consentito alle persone di avere ciò che a loro era dovuto. Abbiamo dato loro quello che era stato negato in passato. Tra il consenso facile e il bene dei cittadini abbiamo scelto il secondo. Lo ha detto il capo politico ad Interim del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, durante la prima assemblea congiunta a Montecitorio dopo le dimissioni di Luigi Di Maio. Ci sono cose fatte che a qualcuno possono piacere e ad altri no, ma sono scelte. E per questo voglio richiamare tutti alla responsabilità. Senso di responsabilità è comprendere il senso delle nostre scelte a partire da me. E in questo vi chiedo il massimo supporto. Dobbiamo riaccendere la scintilla della passione nei cuori dei nostri attivisti e la passione. Non dobbiamo limitare i nostri sogni. Dobbiamo immaginare obiettivi a lunga scadenza. Ha affermato Crimi.